Oggi parleremo di quelle che considero le GTX 1070 e 1080 più estreme che sono state presentate fino ad ora. Naturalmente sto parlando delle MSI GTX 1070 e 1080 Seahawk EKX. Sono due schede video presentate da MSI e nate dalla collaborazione con EK Waterblock. Una delle aziende produttrici di kit di raffreddamento a liquido custom più famose sul mercato. In sintesi stiamo parlando di due schede video vendute con un full cover waterblock integrato nella PCB. La base del waterblock è realizzata in rame elettrolitico placcato in nickel e la scheda video è dotata anche di un black plate in colorazione nero opaca. La parte superiore del dissipatore è realizzata in materiale acrilico ed è trasparente. Il disegno del dragone, ossia il logo di MSI, adorna anche il back plate. Il raffreddamento a liquido di qualsiasi componente del pc permette di dissipare il calore in modo più efficiente. Nel caso delle schede video in particolare il core grafico è la circuiteria di alimentazione. Questa maggiore efficienza oltre a garantire temperature molto più basse permette margini di overclock più elevati. Qualsiasi gamer appassionato ha pensato almeno una volta di comprare un kit a liquido custom per raffreddare la propria scheda video. Quello che però limita fortemente molti appassionati oltre al costo elevato di tutte le componenti che servono radiatore, pompe dell'acqua, tubi, raccordini eccetera è anche il fatto che bisogna smontare la propria scheda video rischiando in alcuni casi di compromettere il valore della garanzia. In questo caso invece abbiamo una scheda video che ci arriva a casa già con il waterblock montato. Per metterla in funzione quindi ci servirà solamente collegare i tubi del nostro radiatore. MSI ha dichiarato che le due scheda video arriveranno sul mercato con un overclock di fabbrica. Tuttavia non sono state rese note né le frequenze né il prezzo e né l'effettiva disponibilità sul mercato. Per questo video è tutto se avete dubbi o quesiti commentate o scrivetemi sui social del canale. Se questo video vi è stato utile spolliciate e soprattutto se siete amanti del gaming pc e non vi sto troppo antipatico iscrivetevi.